Il comitato organizzatore di Ho fatto un sogno, il progetto civico tenutosi nelle giornate del 14 e del 21 ottobre, tornerà presso la villa comunale Ignazzo Scaturro domenica prossima, con la manifestazione dal titolo La giornata della donazione. Il dono è inteso come un gesto che possa fare la differenza, ma anche che possa innescare processi di rigenerazione del bene pubblico. A tal fine il comitato organizzatore ha destinato parte dei fondi raccolti durante gli eventi di ottobre per la sostituzione della pompa irrigua, funzionale al riciclo dell'acqua della fontana e l'irrigazione delle piante. Oltre alla cerimonia di consegna dell'apparecchiatura, la giornata verrà animata dai più piccoli, che avranno la possibilità di scambiarsi giocattoli e libri. Ogni bambino, donando due giocattoli e due libri in ottimo stato, avrà l'opportunità di riceverne uno in cambio. La parte di giochi e libri eccedenti verrà donata al Centro di Aiuto alla Vita e all'Associazione Paideia di Sciacca. In campo domenica anche il gruppo scout di Sciacca per celebrare il Think Day o Giornata del Pensiero, in occasione della ricorrenza della nascita del fondatore dello scautismo mondiale, Robert Baden Powell. Ogni gruppo organizzerà un'attività volta ad aiutare il prossimo, dal raccogliere cibo all'alietare gli anziani in una casa di riposo, oppure al servizio del proprio territorio o ancora per far conoscere all'esterno i valori dello scautismo. Il gruppo scout Sciacca 2 parteciperà attivamente alla giornata all'interno della villa comunale con una serie di laboratori.